Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? Ho ciò che fa per te. Studio medico dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipodren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, tecar ultrasuoni, ionoforesi, tens, laser onde d'urto. Lo studio medico dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51. Telefono 075 800 16 08 ferronigino 60 chiocciolina gmail.com Amici carissimi dell'Umbria vera di Giada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con medicina estetica. Ringraziamo entrambi i dottori. Prima partiamo dal dottor Gino Ferroni, che è colui che ci ospita sempre nel suo studio a Bastia, e l'ospite d'eccezione è il dottor Luca Campili, medico chirurgo. Dottor Ferroni, lascio a lei il microfono e apriamo le danze. Grazie Giada, come al solito gentilissima. Oggi con l'amico Luca Campili parliamo di lipoaspirazioni o liposuzioni, ci sono vari termini per definire il rimodellamento della silhouette, perché di questo si tratta. Questa è una paziente che è stata presso il mio studio, aveva un problema di sovrappeso, ho provveduto a correggere la sua alimentazione, io non parlo mai di diete ma parlo sempre di errori alimentari, ha perso svariati chili, è andata in palestra, ha tonificato, però ci sono delle zone che sono rimaste resistenti, per le quali mi devo avvalere della collaborazione dell'amico Luca Campili, che si occupa di chirurgia plastica da anni e lo considero, oltre che un grande professionista, una persona validissima per risolvere queste problematiche. Ora vi parlerà lui nel dettaglio della lipoaspirazione o liposuzione. A te. Grazie Gino, grazie Giada. Allora sì, per quanto riguarda la lipoaspirazione, come ha detto bene Gino, è un rimodellamento del corpo, anche del viso volendo, però diciamo la maggior parte degli interventi sono sul corpo, è un rimodellamento che giustamente con la medicina estetica o con le diete e con la nutrizione adeguata, ci sono delle parti del corpo che non possono essere assolutamente rimodellate, come l'addome, come l'interno ginocchio, come la regione trocanterica soprattutto, perché quando c'è un dimagramento le donne si dimagriscono soprattutto sul viso, sul seno, ma lì è più difficile, perché l'aspetto ginoide della donna probabilmente è quella che la frega. La condanna. Allora, adesso per quanto riguarda la lipoaspirazione è un intervento chirurgico molto serio e molto complicato perché si fa a cielo coperto, cioè praticamente uno quando inserisce la cannula non sa dove va, quindi bisogna sapere bene l'anatomia, sapere bene i piani muscolari e soprattutto i piani del grasso, perché il grasso è suddiviso in grasso superficiale, grasso medio e grasso profondo, noi dobbiamo andare a aspirare il grasso medio e il grasso profondo. Per quanto riguarda l'intervento si fa in anestesia locale con sedazione in una sala operatoria ovviamente attrezzata con un anestesista e previa ovviamente anche qui analisi ematochimiche e elettrocardiogramma perché dobbiamo fare tutto a regola d'arte con un secondo protocollo. È un intervento sotto tutti i punti di vista? Sotto tutti, no, assolutamente no. Dopodiché si farà una foto e si farà un disegno delle zone da trattare. L'aspirazione viene fatta con delle canne, questa è grande, molto grande, però ci sono delle canne con diametro molto sottile di 2-3 mm che praticamente aspirano in maniera dolcissima, questo praticamente grasso che viene già imbibito dall'anestesia locale che uno fa prima e praticamente viene fuori in maniera tipo un sapone giallo, un liquido giallo favoloso. Allora, volete che vi faccio vedere il disegno preoperatorio? Un attimino. Soprattutto dell'addome, quindi diciamo prima si fa un pinch test, cioè si guarda praticamente dove c'è, lei ce n'ha poco ovviamente, e si fa un disegno praticamente della zona da aspirare. L'incisione ovviamente saranno di mezzo millimetro, due millimetri, zone nascoste, oltretutto non si vedrà niente. E l'aspirazione viene fatta in maniera, come se fosse un violino, che praticamente aspira a raggera, a secondo dei punti, quindi si fa in maniera, come sempre si fa, prima si parte da qua, in questa zona qua, e si fa questo movimento qua. Dopodiché si incrocia magari con un altro ingresso, e si fa questa, in modo che si forma una rete di tunnel, una tunnelizzazione a rete, che rende la parte molto ma molto piatta, e senza avvallamenti. E sulle culotte di, chiamiamole culotte di scevalle? Sì, come le trattiamo? Sempre con la ripaspirazione, e questa diciamo è la zona da trattare, adesso magari la dovremmo mettere in decubito laterale, comunque ok? Anche queste sono le, diciamo le zone d'ingresso, qui e qua, e praticamente anche qua, diciamo ecco, il solito discorso di, di queste, vai e vieni a raggera, questi tunnel a raggera, che incrociate praticamente fanno questa ripaspirazione. Scusa Luca, nel caso dove la zona da lipoaspirare è notevole, e io so che non si possono togliere più di tante quantità di prodotto, due litri, due litri, due litri. Dopo quanto si può intervenire, insomma dopo sei mesi, dopo un anno? Anche meno, anche meno, anche dopo tre mesi. Anche dopo tre mesi? L'intervento va fatto a gennaio, febbraio, novembre, dicembre, cioè nei mesi invernali, perché affinché i tessuti ritornino a posto e si vede il risultato completo, la ripaspirazione ci vogliono dai 4 ai 5 mesi. Ecco, quindi fare un intervento, così anche a me lo chiedono sui capillari, vengono a farlo a giugno, quindi gli dici di no, perché casomai a luglio e agosto, più che un aspetto migliorato, ci avrebbero quasi peggiori. Bravissima, anche perché ci sono delle chimosi, un pochino nel posto operatore, ci sono delle chimosi, va messa una guaina, una guaina contenitiva, però diciamo che il giorno dopo possono andare anche in discoteca. Quindi diciamo su 4-5 giorni, su una settimana può riprendere la propria vita di relazione. Sì, il giorno dopo possono andare a lavoro con questa guaina senza problemi, un po' di dolore e basta. Ho capito. Controindicazioni non ce ne sono? Cioè patologie serie, sì, d'accordo. Difetti di coagulazione, malattie importanti, ma ovviamente... Che vengono valutate a momenti della risita. D'accordo, sicuramente non farà l'alipaspirazione, quindi comunque in ogni caso potete vedere le analisi, l'anamnesi patologica, remota, eccetera. Va bene, grazie per la dimostrazione. Grazie, grazie. Grazie alla nostra paziente che ha avuto questo minuto di pazienza e a Giada per il tempo che ci ha concesso nella sua trasmissione. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci. Il centro estetico progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione, temporanea e definitiva e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze, numero 51, telefono 075 80 11 351. A presto intorno a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a tutti.